Ciao a tutti, oggi siamo stati al supermercato e abbiamo comprato delle patatine con un gusto nuovo. Vediamole. Proviamole. Ho un odore praticamente inesistente, ma sembrano comunque verdure. Sembra una carota. Sì, è una carota. Questa sembra una biedola rossa. Meglio. La carota invece fa venire un po' di nausea. Però alcune non neanche si capiscono. Questa può essere una banana? No, è una zucchina. Alcuni sono buoni, alcuni invece fanno venire un po' di nausea. Patatine diverse. Buone. Ciao. Buon appetito.